Per il ciclo il mio nome è Bond. James, per i miei amici. 007, finalmente. Buongiorno signore. Lui vi promette la luna. Due minuti all'anima. Canciare SSR. Cosa sta cercando di fare? È l'inizio di una nuova civiltà. L'agente segreto, l'unico. Roger Moore è agente 007. Moore Rake. Operazione Spazio. Sabato alle 21.25. Rete 4.